No, ho fatto due o tre annate a Forte dei Marmi e diciamo che l'unico problema era che io ero loro, cioè non possedevo il cartellino, ero senza il 108 e ora a dicembre si è fatto avanti l'Arezzo, molto deciso su questa cosa e non ci ho pensato due volte e ho subito colto l'occasione di arrivare a un club blasonato come questo. La categoria diciamo che l'ho fatta, però venire qua è tutta altra cosa, è una maglia veramente importante e sono pronto ad affrontare questo percorso. È stato veramente facile perché mi hanno accolto benissimo, siamo veramente un bel gruppo e sono convinto che andando avanti così potremo raggiungere i nostri obiettivi senza problemi. Ma sai, anch'io non ce l'ho uno preferito, cioè dove mi mettono mi mettono, ho fatto sia il mediano sia la mezzala che il centrocampo a due, io cerco di dare sempre il massimo, poi forse se devo scegliere forse mezzala mi garba un po' di più perché comunque puoi arrivare più vicino al gol, a livello di inserimenti, però io dove mi metti mi metti cerco comunque di dare sempre il massimo. Io cerco sempre di dare il massimo in allenamento, do sempre il massimo, poi dopo giustamente sarà il mister che farà le sue scelte, però io comunque non mi ci fisso la sesta, cioè io vado avanti per la mia, do il massimo e poi vediamo cosa deciderà il mister.